È una segreteria eterogenea, ci sono ragazzi giovani, ci sono dipendenti, ci sono imprenditori, ci sono liberi professionisti. Raccoglie un po' il tessuto che è quello della nostra cittadina. L'impronta vorrà dare da adesso in poi a questo PD a livello ovviamente comunale? Diciamo che l'impronta principale che daremo sarà quella di programmazione per il futuro della nostra città. Sarà un'impronta di controllo e di garanzia e di tutela per i nostri cittadini. A livello di Consiglio Comunale gli esponenti del PD rimarranno e per il momento non ci sono problemi. Per quanto riguarda le politiche all'interno del Comune di Arezzo, la sua spinta porterà qualche novità? Sì, noi abbiamo già una linea programmatica di lavoro molto serrata. Da qui ad aprile abbiamo continui incontri con quello che riguarda anche il Comune di Arezzo e la nostra sarà una linea propositiva, per cui di piena collaborazione con il Consiglio Comunale e il Sindaco. Noi partiremo prevalentemente, non so se questo è un argomento di novità, ma è un argomento che interessa tutti, è il lavoro. Senta, usciamo comunque da una fase, insomma, congressuale importante. Come le sembra che sia uscito il partito proprio da questo momento, anche di così, rispetto a quello che è la vicinanza con i cittadini? Il partito è uscito rafforzato da questo incontro che c'è stato pochi mesi fa. Siamo consci che i risultati sono stati importanti e che vanno mantenuti. Proprio per questo noi cercheremo di lavorare in questa direzione, coinvolgendo sempre di più i cittadini. Non rimarremo rintanati in Piazza Sant'Agostino, ma ci muoveremo in tutte le zone della città.